Il 2020 sarà per Padova un anno importantissimo per la cultura. Dal 7 febbraio sarà capitale europea del volontariato. In primavera si dovrebbe conoscere il verdetto finale sulla candidatura UNESCO dell'Urb Spicta e poi ad ottobre la grande mostra su Van Gogh organizzata da Marco Goldin. Dal Museo Kröller-Müller di Otterlo, dove è andato a vedere in anteprima le opere che ospiterà nella sua città, il sindaco di Padova Sergio Giordani conferma il suo impegno nel promuovere i grandi eventi culturali. Cultura come veicolo di sicurezza e strada da percorrere per sviluppare il turismo e aumentare il prestigio della città rilanciando le attività economiche, ha spiegato il sindaco, che ha espresso grande ammirazione per la passione del critico Marco Goldin. Con lui le associazioni di categoria sono al lavoro per potenziare i servizi per accogliere i visitatori della mostra. Stiamo lavorando con la Camera di Commercio in piena sintonia per fare il sito di accoglienza. Oggi Padova non ha un sito di accoglienza. Io spero che alle volte di giugno e luglio avremo un sito di accoglienza che in collaborazione con la Camera di Commercio Bologna ci sta aiutando a realizzare in fretta. Collegati alla mostra su Van Gogh ci saranno anche molti altri eventi preparati dallo stesso Goldin. Il 20 gennaio iniziano quattro elezioni sul pittore olandese tenute proprio dal critico d'arte trevigiano e nel periodo della mostra arriveranno in città esperti internazionali di Van Gogh per visite guidate e poi ancora concerti al museo. Insomma la città deve prepararsi, dice il sindaco, rinnovando dall'Olanda l'appello alle associazioni di categorie e a potenziali imprenditori del settore alberghiero. Penso che per questo sia veramente importante darci da fare come servizi, come alberghi, portare a casa qualcosa di nuovo per la città e diventa importante.